Ciao a tutti, oggi prima canzone italiana sulle vaccinazioni, io sono Toghi, cantatore su Tirolese, mia competenza italiana non molto bene, ma questo altro reparto oggi, vaccinazioni. Signora Ministra, scusi, tre minuti le rubo, perché dei vaccini non capisco un tubo. Signora Ministra della vaccinazione, la parola magica è informazione. Io voglio sapere cosa c'è nel vaccino, in parole chiare e non in latino. Signora Ministra, io voglio sapere perché questa roba non si può bere, perché ha tre mesi una puntura, al mio pampino fa tanta paura, sicuramente lei va dal dentista, allora una puntura, lei la ciavista. Signora Ministra, le mie domande sono tante, io sono un papà, ma non ignorante, una cosa importante lei deve capire, far paura ai genitori la deve finire. Prendiamo la multa, ci prende i bambini, se non facciamo i bravi a prendere i vaccini. Signora Ministra, il Medioevo è passato, abbiamo diritto a risposte che le ho dato. E se non capisce, alle prossime elezioni, prenda la sua valigia e vada fuori dai piedi. Grazie.